E' chiaro che chi si oppone a sta roba usa tutti i sistemi, tutti i trucchi e tutte le strategie parlamentari. A un certo punto si arriva a rederazione, c'è poco da fare. Mettersi a trattare con chi magari ha la volpe sotto la cella, come si dice. Renzi è Renzi. Ma ce n'è più di uno, insomma. Via, via. È triste dirlo, ma è così. Grazie.